Ma invece c'è una tua impressione su Django? È bellissimo, è un film notevole Tarantino gira molto bene a livello tecnico proprio quindi c'è poi a dirglielo e poi vabbè una citazione dopo l'altra di tutti i film che arrivano a me Grande silenzio, tutti i film italiani e poi è interessante mi tratta il tema della schiavitù un po' interessante un po' crociuto poi c'è il ritmo fondo sono stati due ore e cinquanta nel prossimo e ho perso 40 minuti Cioè non c'è stato per ora appunto uno che mi abbia detto che... che gli ha fatto... anche tre amici buoni che li ha fatto già ma loro sono anti-tarantiniani da sempre mi garbano, non mi è mai garbato proprio lo stile